Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di un altro film di Bong Joon-ho, The Host, film catastrofico che in un certo senso porta avanti il discorso cominciato con Memori di un assassino. Prima di cominciare ricordo che in descrizione c'è il link del sito di Schegge di Vetro dove potete trovare tante recensioni, analisi e speciali, tra cui la monografia di Bong Joon-ho. Ma adesso parliamo del film. In seguito al successo di Memori di un assassino, Bong Joon-ho continuò a percorrere una strada simile con un altro film di genere, questa volta di fantascienza, più precisamente un monster movie, The Host. Il regista pensò per la prima volta a questa storia durante la realizzazione di Barking Dogs Never Bite, iniziando a raccogliere del materiale come foto del fiume Han e del mostro di Loch Ness, del quale il regista era appassionato fin da bambino. L'idea di base era quella di unire le due cose e creare un mostro che abitasse il fiume Han. In seguito all'incidente McFarland avvenuto nel 2000, Bong aggiunse alla storia tutta la parte riguardante il ruolo degli Stati Uniti nella vicenda. Questo caso di cronaca, divenuto molto celebre in Corea del Sud, riguardò Albert McFarland, direttore dell'ottava unità delle forze armate degli Stati Uniti in Corea, che diede l'ordine di scaricare delle grandi quantità di formaldeide nel fiume Han. Mettendo insieme le due cose dopo aver realizzato Memori di un assassino, finalmente nel 2004 il regista cominciò a scrivere la sceneggiatura, che inizialmente non ruotava attorno alla famiglia protagonista. Come ricorda lo stesso Bong fu la visione di Science di M. Night Shyamalan a fargli venire in mente di raccontare la storia dal punto di vista della stravagante Famiglia Park. Se già Memori di un assassino fu un caso cinematografico nel 2003 con circa 5 milioni di spettatori in Corea del Sud, con The Host Bong riuscì a fare ancora di più. Venne visto da circa 13 milioni di spettatori al cinema nel 2006, anno in cui la popolazione della Corea del Sud si aggirava intorno ai 48 milioni di abitanti. In sostanza quindi un quarto della popolazione coreana lo andò a vedere al cinema, record che venne battuto soltanto nel 2010 da Avatar di James Cameron. Un successo clamoroso che, come per il film precedente, è attribuibile soprattutto all'abilità di Bong di utilizzare il cinema di genere come un mezzo per esorcizzare dei traumi collettivi della popolazione coreana. Nell'analisi di Memori di un assassino è stato inevitabile ricorrere al paragone con Zodiac di David Fincher, per via della decostruzione delle regole del genere thriller, ma anche per la capacità di entrambi i registi di riaprire ferite nazionali ancora aperte. Anche nel caso di The Host risulta necessario fare riferimento a due film, Cloverfield e Science, entrambi strettamente connessi, come lo è anche Zodiac, all'attentato dell'11 settembre 2001 e al periodo di tensione che lo ha seguito. Le tre pellicole hanno affrontato in diversi modi questo trauma collettivo. Fincher ha cercato di rappresentare metaforicamente il nemico invisibile, lo spettro del terrorismo, attraverso la storia del killer dello zodiaco. Matt Reeves con Cloverfield ha tentato di far provare allo spettatore qualcosa di simile a ciò che deve aver provato chi realmente ha vissuto l'attentato al World Trade Center. Shyamalan invece è stato il meno incisivo a causa soprattutto del periodo di distribuzione del film ancora troppo vicino all'attentato e ha cercato di mostrare come stando uniti si possa sconfiggere il nemico, alieno o umano che sia. The Host si avvicina molto a Cloverfield perché in entrambi i casi l'intento è quello di creare dei mostri strettamente legati al paese in cui sono ambientate le storie. Il motivo per cui le due pellicole sono molto efficaci è il fatto che non si siano limitate a riproporre dei mostri già esistenti appartenenti ad altre culture come è successo ad esempio con il Godzilla del 1998 di Roland Emmerich, film decisamente non all'altezza delle controparti giapponesi proprio per via del distacco culturale. Non a caso è stato necessario aspettare Shin Godzilla di The Kai Anno per tornare a vedere un film della serie più interessato alla critica sociale. Detto ciò va sottolineato che Cloverfield è di più facile interpretazione rispetto a The Host perché il rimando all'11 settembre è da vedersi soprattutto nell'estetica adottata dal regista, quella del mockumentary found footage digitale ispirata direttamente dalle riprese reali di chi ha documentato l'attentato al World Trade Center. Si tratta di immagini che hanno fatto il giro del mondo e che si sono impresse nella memoria collettiva di tutti quanti, travalicando i confini nazionali. Il film di Bong è più difficile da sviscerare per uno spettatore occidentale per via del gap culturale di cui abbiamo parlato nell'analisi di Memorie di un assassino. Per gli spettatori coreani che nel 2006 andarono a vederlo al cinema però l'effetto deve essere stato simile a quello di Cloverfield sul pubblico statunitense. Ho già menzionato l'incidente McFarland da cui il film prende le mosse ma è solo la punta dell'iceberg. Come Memorie di un assassino è fondamentale il ruolo svolto dagli Stati Uniti e il risentimento della popolazione coreana verso il governo americano a cui la Corea del Sud è strettamente legata, per non dire sottomessa. Il mostro stesso può essere visto come una metafora della presenza americana in Corea del Sud. C'è poi il personaggio di Park Nam-il, interpretato da Ail Park, che è il regista caratterizzato come un attivista coreano degli anni Ottanta, riportando le parole dello stesso Bong. Tutto il finale con le rivolte sedate dalla polizia riporta alla luce un periodo storico impresso nella mente dei coreani, già rievocato dal regista in Memorie di un assassino. Va ricordato che Bong ha vissuto in prima persona il periodo della presidenza di Chundong-hwan, in cui la Corea del Sud era ufficialmente una democrazia ma in pratica un regime autoritario, partecipando anche ai movimenti studenteschi. Ancora una volta è questa la chiave del successo del film di Bong, che insieme a Memorie di un assassino va a costruire un ipotetico dittico che racconta la Corea del Sud attraverso il genere, o meglio attraverso la decostruzione del genere. Parlo di decostruzione del genere perché effettivamente The Host fa crollare la colonna portante di qualsiasi Monster Movie tradizionale, il ruolo del mostro. Come è stato fatto notare da alcuni critici, il mostro di The Host è quasi un McGuffin hitchcockiano, un pretesto per raccontare altro. Questo non vuol dire che Bong ripudi il genere inteso in senso più tradizionale, anzi, è cresciuto a forza di B-movie visti in televisioni, affiancati al cinema di serie A di autori come Hitchcock e Peckinpah. Possiamo considerarlo un grande stimatore del cinema di genere, quindi ciò che ha cercato di fare è piegare il genere al suo scopo. Le scene d'azione ci sono, così come quelle di tensione, e il mostro non molto ma si vede. Ciò che interessa principalmente a Bong, però, non è il mostro, bensì, da una parte, raccontare la società coreana, e dall'altra la storia della famiglia Park, in particolare la crescita di Park Gangdu, il padre della bambina che viene rapita dal mostro. Ed è qui che entra in gioco Science di Shyamalan, film che, come già scritto, ha profondamente influenzato Bong nella scrittura di The Host. In entrambi i casi c'è una minaccia esterna che deve essere fronteggiata da un nucleo familiare in crisi, che riuscirà ad uscirne vincitore soltanto stando unito. Nonostante il tema sia simile, è molto diverso il modo in cui viene affrontato. Science uscì il 2 agosto del 2002, e può essere considerato uno dei primi film post-11 settembre. A distanza di pochi mesi dall'accaduto, sarebbe stato difficile offrire una riflessione critica sul periodo di tensione che stavano vivendo gli americani, cosa che poi Shyamalan fece qualche anno dopo con The Village. Lo si può considerare quindi come un film che reagisce a caldo al trauma nazionale appena avvenuto, tentando non tanto di riflettere sull'accaduto ma di rassicurare il popolo americano. Stando uniti si può sconfiggere il nemico. Fondamentale ad esempio è l'utilizzo da parte del personaggio interpretato da Hawking Phoenix di una mazza da baseball per affrontare l'alieno nel finale del film, un'arma simbolica tipicamente americana, essendo il baseball uno degli sport più seguiti negli Stati Uniti. Il film di Shyamalan, nel suo tentativo di essere rassicurante a tutti i costi, si conclude con un happy ending su ogni fronte. Tutti i protagonisti si salvano, il nemico viene sconfitto e addirittura il personaggio interpretato da Mel Gibson ritrova la fede persa in seguito alla morte della moglie. Bong, complice anche la maggiore distanza temporale degli eventi a cui fa riferimento, fa morire alcuni dei protagonisti, compresa la bambina rapita all'inizio del film. Una vera e propria vittima sacrificale che permette alla famiglia Park di riunirsi e a Gang Do di maturare e diventare finalmente adulto. Non è un caso che una delle prime scene e l'ultima scena del film chiudano un cerchio, quello appunto della crescita di Park Gang Do. The Host si apre con Park Gang Do che viene svegliato da suo padre e si chiude con Park Gang Do che scruta fuori dalla finestra per assicurarsi che non ci sia nessun mostro. Prepara da mangiare e sveglia il bambino salvato nel corso del film da Yoon Seo. Il suo ruolo viene completamente ribaltato. Per tutto il film viene fatta leva sulla sua capacità di addormentarsi in qualsiasi situazione, anche le meno appropriate. Alla fine invece è vigile e pronta a difendere il nuovo nucleo familiare che si è venuta a creare. In effetti non si può proprio parlare di happy ending perché la sensazione che si ha è quella di una possibile ricomparsa di un mostro o di qualcosa che metta nuovamente a rischio i protagonisti. Interessante è anche la metafora della caduta. Nel film di Bong compaiono spesso personaggi che inciampano cadendo a terra, a sottolineare la loro goffaggine e inadeguatezza. In una delle scene cardine di memoria di un assassino ad esempio, per due volte dei poliziotti inciampano consecutivamente. In The Ost è invece Gang Do che nella prima parte del film continua a cadere, mentre nella seconda, specialmente dopo quella specie di lobotomia a cui viene sottoposto, non cade più, un altro simbolo della sua crescita. Ritornando alla questione della ricostruzione del genere, è interessante il fatto che la famiglia Park venga ostacolata soprattutto dal sistema coreano, dalle forze dell'ordine fino all'esercito americano, più che dal mostro che in fin dei conti non è cattivo ma cerca soltanto di nutrirsi, come qualsiasi altro animale. Un altro elemento che riporta alla mente è Memorie di un assassino, dove a fare danni era più la burocrazia e l'incompetenza della polizia che il serial killer stesso. Anche in The Ost torna la metafora dei sotterranei come luogo in cui viene nascosto ciò che non vuole essere reso pubblico. Il mostro di The Ost porta tutte le vittime nelle fogne di Seoul, collegate al fiume Han, dove è stata scaricata la formaldeide che probabilmente è l'origine del mostro stesso. E quindi ancora una volta è in un ambiente sotterraneo che si nasconde il marcio della società coreana per Bong Joon-ho, come Memorie di un assassino in cui le torture avvenivano nello scantinato della stazione di polizia, o come tutti i sotterranei di cui abbiamo parlato nell'analisi di Parasite. Non a caso il mostro non viene mai fatto vedere nei notiziari che compaiono nel corso del film. Entra in gioco un presunto virus che poi si scoprirà non esistere realmente, sul quale si concentra l'attenzione dei media e che provoca una specie di isteria pubblica, ma il mostro viene completamente lasciato da parte, proprio per ciò che rappresenta. Questo, nel finale, rende Gang-Doo, che inizialmente sembrava stupido, addirittura al di sopra degli altri, perché è uno dei pochi ad aver preso coscienza a vedere la vera minaccia andando oltre ciò che viene diffuso dai media. The Host sorprende anche per come è stato realizzato, oltre al contenuto che abbiamo analizzato fino ad ora. La regia di Bong Joon-ho, già eccezionale nel film precedente, è ancora una volta notevole. Il regista alterna piani sequenza movimentati, in cui viene anche utilizzata la CGI per rappresentare il mostro, e inquadrature completamente fisse. Anche in questo caso colpisce come Bong cerchi di rappresentare ogni situazione nel modo più asciutto e funzionale, senza cercare i virtuosismi registici di alcuni dei suoi colleghi come Kim Ji-Woon. La splendida fotografia di Kim Hyun-Koo, che già aveva collaborato con il regista in Memorie di un Assassino, è lontana da quello stile patinato che caratterizza molti film coreani post-old boy. Sorprendono gli effetti speciali digitali, specialmente se si pensa che è un film del 2006 e che non si tratta di una produzione hollywoodiana. Inizialmente il regista aveva pensato di appoggiarsi alla Weta Studios di Peter Jackson, ma dopo il clamoroso successo ottenuto con la saga del Signore degli Anelli, i prezzi della compagnia di Jackson divennero inaccessibili. Bong si rivolse quindi alla Orphanage, compagnia specializzata in effetti digitali, i cui membri avevano lavorato precedentemente alla Industrial Light & Magic di George Lucas. Per quanto riguarda i primi piani del mostro, sono stati utilizzati degli effetti pratici. È stata costruita la testa del mostro dalla John Cox Creature Workshop. Il risultato è eccezionale, a distanza di anni sono poche le scene in cui gli effetti risultano invecchiati. Con The Host, Bong Joon-Ho ha portato avanti quanto cominciato con Memorie di un Assassino, realizzando un altro film fondamentale per la cinematografia della Corea del Sud, sia a livello di incassi domestici, come già spiegato, che per quanto riguarda l'accoglienza all'estero. Il nome del regista è iniziato ad essere noto anche fuori dai confini nazionali. Non ha forse avuto l'importanza di Memorie di un Assassino per quanto concerne le influenze sui film a venire, ma sicuramente resta uno dei monster movie più interessanti degli anni 2000, insieme a Cloverfield e Shingozilla. Anche questa analisi è finita. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate il link del sito Scheggia di Vetro in cui sono presenti molte recensioni, analisi e speciali, e vi consiglio di recuperare assolutamente questo film di Bong al momento disponibile anche su Netflix. Il video termina qui e ci vediamo al prossimo video. Grazie.